Come si usava nel settecento quando le popolazioni povere non potevano frequentare i grandi teatri dove si rappresentavano le grandi opere teatrali, erano i musicisti che a volte, a volte, che sicuramente in versione salutiera andavano delle porti a poter presentare questi temi che le persone ascoltavano da lontano, quindi si formavano anche dei piccoli gruppi che permettevano a queste persone di potersi avvicinare all'opera naturalmente, a volte con i cantanti, a volte spesso senza cantanti e tutti i temi quindi erano riorchestrati a livello strumentale. E' il caso di questa, non più di fiori, dalla clemenza di Vito, di Wolfgang Amadeus Mozart, tutti i vari temi presentati, in questo caso, dal soprano, coaduovato dal contralto, accompagnato dall'orchestra, che in questo caso era il pianoforte, non più di fiori. E' il pianoforte, non più di fiori, non più di fiori, non più di fiori. E' il pianoforte, non più di fiori, non più di fiori, non più di fiori. E' il pianoforte, non più di fiori, non più di fiori, non più di fiori, non più di fiori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.